Andrà, la prima di tre partite la consideri una partita, insomma, la prima di tre oppure... La prima, la considero la prima. Difficile, no, dico nel senso... Difficile, insomma, in Serie A, stiamo parlando della Serie A, quindi tutte le partite hanno le proprie difficoltà, insomma, siamo un campo tosto, loro in casa si esprimono bene, quindi lo sappiamo, insomma, adesso è tre anni che andiamo a giocare in quello stadio, quindi sappiamo le difficoltà che incontreremo e quindi cercheremo anche noi, insomma, di crearle a loro, come è sempre stato negli ultimi anni. A Bergamo chiedi, al vero, di essere più cinico o di commettere meno errori? Beh, è quello che dicevo prima, insomma, gli errori fanno parte del gioco, adesso poi ci sono momenti in cui magari gli errori paghi anche completamente, sempre al 100%, è quello un po' che sta succedendo a noi, però, insomma, fa parte sempre di una squadra che prepara la gara, che deve difendere da squadra e poi nella squadra ci sono poi qualche errore, in questo momento, ripeto, stiamo pagando. Non lo so perché tipo di partita, noi ci siamo preparati bene, vorremmo fare una buona gara, però al di là della buona o meno gara credo che sia importante sempre, davanti a tutto, il risultato. Chiaro che andiamo per giocare, per portare a casa il massimo del risultato. Troviamo una squadra che in casa, ripeto, riesce a esprimersi diversamente, il pubblico vicino alla squadra, quindi abbiamo tante componenti che conosciamo e quindi non ci fa trovare impreparati, assolutamente. Ti chiedo anche, queste prime partite, è finito sul banco degli imputati, magari anche da parte nostra, naturalmente, per qualche errore, Raffaele, che tu conosci da molti anni, che è sempre una bandiera del Verona, non hai pensato di farlo rifiatare per queste partite? C'è l'idea di proporre gollini oppure da Bergamo comunque sia ci sarà Raffaele con una fiducia ampiamente riconfermata? No, Raffaele, magari può aver commesso forse un errore, forse credo che soprattutto sul tiro della Roma, poi negli altri assolutamente poteva fare di più, come poteva fare di più tutto il reparto difensivo, meglio i centrocampisti, gli attaccanti, quindi di squadra si deve difendere un po' meglio in questo momento che magari proprio dove una palla cade, cade sempre addosso agli altri, quindi è un momento un po' così. Poi uno può credere o meno ai momenti, però questo è un momento così e nel calcio ci sono. No, Raffaele, come ho sempre detto, il titolare deve stare tranquillo, deve giocare, fare quello che ha sempre fatto, dimostrato e gli errori fanno parte del gioco. Attaccanti così come si gestiscono? Mi chiedai l'altra possibilità, lo fai giocare ancora, meritano continuità oppure non è così dipendente? Ma no, ma io al di là delle possibilità o meno, qui stiamo parlando della terza partita, quindi Silicato ha fatto tre presenze e poi Pazzini ha fatto tre, poi uno può contare i minuti o meno, ma hanno giocato tutti, quindi Bosco tutte e tre, quindi davanti hanno giocato tutti, quindi giocano, poi li cambio e penso sempre di partita in partita. Adesso andiamo una settimana, dobbiamo tre gare, quindi sicuramente qualche cambio, qualche situazione nuova non ci potrà essere, però come dicevo prima Gianluca, conta la prima, è la prima, dobbiamo partire da quello, quindi mettere in campo, secondo il mio parere, la formazione che mi dà più garanzie, però insomma in base alla partita che andiamo a giocare, questi uomini. Chiaro che sei corto al centrocampo, ti volevo chiedere la settimana come è stata anche in funzione del resto della squadra, perché poi scelte abbastanza obbligate in mezzo, non so se poi verrà condizionata inevitabilmente, è stato condizionato inevitabilmente anche tutto il lavoro della settimana in base a questo? No, condizionato no, l'unica condizione che devi sempre stare attento è che non ti succeda niente, perché sai quando sono così tanti problemi ne subentano sempre degli altri, quindi sono sempre stati tranquilli, non cercare di avere, infortuna anche poi non si può mai sapere quando giochi una partita o fai delle sensazioni, ci sta, abbiamo convocato ragazzi nella primavera, Guglielmelli, e poi insomma lì potremmo riciclarci Rafa che potrebbe giocare in mezzo al campo, Beh, Zaccagni insomma, Zaccagni anche lui insomma con noi può fare diversi ruoli sia alto che in mezzo al campo, quindi proprio proprio all'osso non siamo, quindi abbiamo qualche alternativa se nel caso dovesse essere. A proposito della settimana, guardi di partita in partita per gli eventuali cambi, come hai detto, oppure hai già fatto un ragionamento a lungo termine? No, l'unico ragionamento è di questa partita, tirare fuori il massimo da questa partita, ho sentito, insomma è un scontro per la salvezza o meno, non lo so, però è uno scontro che ci teniamo, due squadre insomma che siamo vicini, ci siamo incontrati, quindi è molto sentita, quindi questa è la prima partita, questa è quella che conta, tutte le altre ci penseremo dalle sei di domenica pomeriggio. Ecco, a proposito dell'Atalanta, mi dici che squadra è rispetto all'anno scorso, perché qualcosa è cambiato, anche negli uomini, mi pare che dietro abbiano un po' di emergenza anche loro. Ma sinceramente, guarda, degli altri poco, però insomma non è che avrebbe cambiato, è arrivato Curti, stesso Pini è squalificato, però insomma doveva rientrare Denis, e Denis Gomez c'è lo scorso anno, ma quando c'è altri noi non era appena arrivato, non ha giocato, però Maxi Morales è sempre lui, Carmona c'è sempre, quindi sono sempre in linea, anche loro hanno fatto dei cambi, però insomma è sempre la solita squadra, quadrata, concreta, in casa aggressiva, un po' l'ambiente spinge anche in queste situazioni, quindi ci conosciamo bene, speriamo che le nostre conoscenze che abbia avuto anche negli anni scorsi, insomma, abbia il sopravvento. Domenica scorsa, mister Torino, domani Atalanta, mercoledì Inter, è un trittico ricco di emozioni per te, insomma tre squadre che hanno rappresentato per te davvero tanto. Sì, sì, ma le emozioni me le dà soprattutto la vittoria, quindi in questo momento le mie emozioni sono a livello molto molto basso, però noi siamo questi, siamo riusciti anche a far passare il nostro grande risultato, che è la prima giornata con la Roma, per tutti è passato un risultato ottenuto contro la Rometta, poi la Rometta batte la Juve, vince fuori, costringe e pareggia col Barcellona, però per noi abbiamo pareggiato con la Rometta, quindi c'è sempre un po' un modo che non mi piace molto, quindi al di là dell'ex dove sono stato, mi interessa vivere le emozioni, e sono le emozioni grandi te le dà vincere con questa squadra, insomma, in questi anni abbiamo fatti tanti punti, pur prendendo, come dice Vigo, tanti gol, ma il risultato finale è quello che conta, quindi noi dobbiamo lavorare per quello.